Buon arveli! Luca Signorelli, tra le vie della città, tra le quali non poteva mancare la via intestata all'artista, e le chiese di Sant'Agostino, San Francesco e San Domenico, insieme a quella degli artisti, Santa Pollinare. A proposito di Luca Signorelli, un artista, un tifernate, uno di noi, è il frutto di mesi di lavoro di un'equipe, formata da diverse persone, con peculiarità e professionalità diverse, nata con l'obiettivo di provare a fare un salto indietro nel tempo, fino ai giorni di Signorelli e in una città di castello che fu.